e chi non salta è palermitano chi non salta è palermitano come sono? corini? corini? come sono le quattro pere? come sono? come sono? sono buone? abaita abaita finalmente allora allora gennaro borrelli è un calciatore italiano attaccante del brescia in prestito alla frosinone sono dimenticato di dire il centra avanti mostruoso si sono dimenticato di dire su wikipedia mamma mia doppietta doppietta di borrelli c'è lino c'è lino c'è lino azzardati azzardati a non riscattare borrelli 3 milioni azzardati azzardati di non riscattare borrelli e se non lo riscatti aspetta di uno striscione sotto la sede lungo 2 metri mamma mia mamma mia mamma mia 4 a 2 mamma che prezzo ma poi soprattutto ragazzi che prestazione che prestazione mi devo riprendere ragazzi mi devo ancora riprendere mamma mia mamma mia mamma mia ragazzi incredibile poi ragazzi primo tempo praticamente un rimonte contro rimonte un primo tempo allucinate andiamo in vantaggio con un gol di tacco tacchettino magico tacchettino magico il tacchettino magico di mamma mia mamma mia mamma mia tacchettino magico andiamo in vantaggio poi pareggia a brunoni su rigore di francesco fa il 2 a 1 ci rimontano gli ho detto ecco la ecco la quella partita dove iniziamo bene poi contro l'avversario con il pernesso di sopravvento di laca e invece no e invece no e invece no e invece no perché 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 le rondinelle non muoiono mai perché le rondinelle non muoiono mai fai il 2 a 2 poi fai il 3 a 2 che non si è capito che non si è capito se ho diviso le 8 gol di chi non si è capito niente 3 a 2 poi 4 a 2 di mamma mia mamma mia tutto nel primo tempo si fa tutto nel primo tempo poi nel secondo diciò diciò secondo tempo magari ma che il palermo uscita fuori noi crolleremo magari non so ci rasseremo no ragazzi no no pimpanti anche nel secondo tempo primo e secondo tempo perfetti 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 finalmente abbiamo visto una prestazione come si deve finalmente abbiamo visto la prestazione come si deve finalmente ragazzi finalmente poi che gol Fabrizio Paghera potete giocare a Fabrizio Fabrizio Paghera dove è Fabrizio Paghera eccolo qua Fabrizio Paghera è un calciatore italiano centrocampista del Brescia Paghera 32 anni da come gioco sempre chiede per 19 mamma mia mamma mia nulla da dire ragazzi nulla da dire nulla da dire nulla da dire nulla da dire che stiamo se non che stiamo guardando come dirici settimi settimi aspettando gli altri che devono giocare ci tengo a dirlo aspettando gli altri che devono giocare aspettando che gioca il Modena aspettando che gioca il Gittadino aspettando che gioca il Bari eccetera eccetera però questo è un sabato dove ci guidiamo un settimo posto meritato dai diciamo meritato dai 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 diciamo meritato anche per come abbiamo fatto oggi meritato per come il Palermo vi riprenderete dai però per il resto ragazzi mamma mia mamma mia Borrelli 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 tu mi fai spogliare Borrelli tu mi fai mettere lì fuori nudo Borrelli mamma mia mi stai eccitando Borrelli mi stai eccitando incredibile 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 davvero non me l'aspettavo ragazzi non me l'aspettavo posso dirvi che non me l'aspettavo sinceramente incredibile una vittoria che vale forse vale 6 punti cioè questa ragazzi la prossima qui a Parma io ve lo dico non vinciamo a Parma non vinciamo però se vinciamo anche a Parma se vinciamo anche a Parma se vinciamo anche a Parma è pazzesco se vinciamo anche a Parma è pazzesco ma non succederà non succederà ragazzi se non succederà il Parma è una scada anche molto piuttosto del Palermo ma ve l'ho detto nel prepartita però eh ve l'avevo detto nel prepartita il Palermo è una squadra che ha i singoli e ve l'ho detto ieri ragazzi ieri ve l'ho detto il Palermo è una squadra che ha i singoli ha i singoli ma non ha gioco e soprattutto è una squadra che è battibile è una squadra forte ma battibile e l'abbiamo dimostrato siamo stati cinici bravi a sfruttare anche dei loro errori dei loro errori e le loro incertezze incredibile incredibile ragazzi mamma mia fatemi sapere la vostra con un commento ragazzi fatemi sapere la vostra fatemi sapere la vostra fatemi sapere la vostra fatemi sapere la vostra qui sotto state godendo state godendo fatemelo sapere mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ciao ragazzi condivisione commento fatemi sapere la vostra ci vediamo ci vediamo domani con il giorno dopo di Brescia Palermo ci vediamo ma papilla